Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e dell'attività per contrastare le indebite percezioni e le frodi relative a erogazioni pubbliche nazionali ed europee, i finanziari del Comando Provinciale di Sassera hanno scoperto 12 casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza. I militari dell'attenza di Tempio Pausania hanno accertato che in alcuni casi i percettori del reddito di cittadinanza hanno commesso il reato di falsità ideologica, presentando dichiarazioni non veritiere necessarie per l'accesso alla misura di sostegno. In altri casi le fiamme gialle hanno rilevato all'ommessa comunicazione all'Inps di importanti variazioni relative sia alle condizioni occupazionali che ai patrimoniali. I risultati ottenuti testimoniano una casistica variegata di condotte fraudolente e sottolineano le fiamme gialle. Alcuni soggetti, pur essendo titolari di diverse proprietà immobiliari, risultavano aver richiesto e ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza. Altri invece svolgevano attività lavorativa in nero e sono stati scoperti grazie ai controlli eseguiti per il contrasto del lavoro irregolare o per l'avvio di ispezioni fiscali. Dall'inizio dell'anno i finanziari dell'attenza di Tempio Pausania hanno accertato una frode in danno all'erario per oltre 130.000 euro. 12 soggetti appartenenti ad altrettanti nuclei familiari sono stati segnalati per profili penali all'autorità giudiziaria e per quelli amministrativi revoca decadenza e recupero all'Inps. L'azione della Guardia di Finanza, attesa al contrasto dell'illecito accesso a prestazioni assistenziali, spiega una nota, si inquadra in un più ampio e costante dispositivo a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e a garanzia di tutti i cittadini, in particolare di coloro che usufruiscono legittimamente di misure di sostegno quali il reddito di cittadinanza, a maggior ragione in un periodo di emergenza come quello attuale.